Minecraft Mob Episodio 5 La domanda Con l'essere che aveva visto, gli aveva gelato il sangue, non aveva mai visto una cosa del genere. Si sentiva continuamente osservato e non sapeva che poteva chiedere qualsiasi cosa come un po' di conforto, ma forse conosceva qualcuno che forse poteva dargli delle risposte, qualcuno che esisteva dalla 1.0, qualcuno che dovette fuggire perché impazzito, ma era l'unica scelta, lui, il signore delle tenebre per eccellenza, il potentissimo, Eurobrine. Continua. Questo è l'episodio 5, sempre fatto da verte gli occhi, non ho niente da dire, vedete l'ha fatto abbastanza bene, e niente, come vi ho già detto non facciamo più le cose in live perché ci ho rinunciato, è meglio così, anche perché durano un po' troppo poco, e niente, ciao! Ciao!